Ex ospedale al mare dell'Idol, movimento 5 stelle contro la giunta comunale che vuole vendere, non sanno gestire il patrimonio, dicono. Non si capisce bene come Orsoni, sindaco amministrativista da 600 mila euro all'anno, possa eludere la legge in questo modo vergognoso. Grillini contro la giunta comunale sulla vendita dell'ex ospedale al mare dell'Idol alla Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta, sostengono, di un'operazione illegale. La legge dice che possono essere venduti alla Cassa Depositi e Prestiti solo gli immobili ad uso non prevalentemente abitativo. Ebbene, 44 mila metri quadri su 48 mila della porzione dell'ospedale al mare che saranno venduti sono residenziali. Questa amministrazione, attacca il militante a 5 stelle Davide Scano, non è capace di gestire il patrimonio pubblico con la dirigenza del buon padre di famiglia e ogni anno si trova a cercare di salvare i conti all'ultimo giorno utile di dicembre. Un atteggiamento sintomo di incapacità? Quel che andrebbe fatto sarebbe tagliare radicalmente i molti investimenti valordi e le tante spese inutili. Dopo aver venduto le azioni Save, aver venduto, ho tentato di vendere, ma adesso è arrivata l'autorizzazione, aver venduto il Casino di Venezia per pochi spiccioli, aver venduto un patrimonio immobiliare incredibile e le azioni, ad esempio, della Serenissima, dell'autostrada, ecco che si va a vendere ormai gli ultimi immobili rimasti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS